Il codice Ateco 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 La sburocratizzazione Altro tema molto importante Che è stato sottolineato È quello dell'accesso al credito Da parte delle aziende Da parte delle imprese Da parte un po' di tutti Perché se da una parte Sembrerebbero esserci degli strumenti Che permettono l'accesso al credito Questi strumenti devono però essere effettivi questa è una caratteristica che è fondamentale per due ordini emotivi il primo per la sopravvivenza vera e propria delle nostre aziende e il secondo perché è stato introdotto effettivamente una questione che è altrettanto importante, altrettanto pericolosa che è quella delle infiltrazioni della criminalità organizzata io di questo sarà un tema, domani probabilmente avremo un cosp ne ho parlato prima col prefetto ma subito dovremo lavorare su questo punto perché è di tutta evidenza che avere difficoltà per un soggetto, per un'azienda di accedere al credito, essere come si dice impiccati dal punto di vista economico ti mette nelle condizioni di essere più debole rispetto a chi magari il credito te lo dà ma te lo dà in modo non legittimo, non corretto, in modo come sappiamo che fanno le associazioni soprattutto di stampo mafioso allora, visto che, e l'abbiamo visto nei mesi, negli anni scorsi che un problema di questo tipo comunque nel nostro territorio c'è perché l'abbiamo visto anche con i provvedimenti presi dalla nostra prefettura è di tutta evidenza che un territorio ricco come il nostro ma che entra in una difficoltà come questa può avere un'ulteriore problematica che è quella delle infiltrazioni delle infiltrazioni della criminalità organizzata, della mafia e su questo abbiamo concordato tutti che dobbiamo alzare un muro insormontabile dobbiamo alzare un muro insormontabile Verona, la nostra città, non li vuole e dobbiamo però essere messi anche nelle condizioni e qui mi riferisco evidentemente al mondo bancario cioè le nostre aziende devono essere messe nelle condizioni di poter appunto accedere al credito Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!